Dalla Russia per la 4.000 scalini, com'è stata? Dura? Un po' dura, mi girava la testa anche perché mancava l'aria forse, però mi è piaciuto. Mi è piaciuto, anche alle sue compagne? Sì, loro molto, come si dice, molto contenti. E il posto, il forte, vi è piaciuto questo posto di montagna? Sì, come dico un scherzo, il mio cognome è Savoia, allora è come mia casa. Verrebbe voglia di dire dalla Russia con amore, perché erano in molti gli atleti del Grande Nord, Alvia, a Penestrelle, nella nona edizione della corsa in montagna 4.000 scalini Corriforte, inserita nel programma degli European Master Games. Nella competizione assoluta che si è disputata nella scala coperta del monumento simbolo della provincia di Torino, oggi città metropolitana, ha vinto per la quinta volta in campo maschile Massimiliano Di Gioia dell'Atletica Jot 22 Rivera in 20 prime 57 secondi. Precedendo per soli 7 secondi lo svizzero André-Pierre Rammus, primo nella classifica della categoria Over 40 degli European Master Games. In campo femminili, vittoria della torinese Gianfranca Attene della podistica Torino in 26 primi e 51, precedendo per 59 secondi Serena del piano della Brancaleone Asti. La prova, patrocinata e sostenuta sin dall'esordio della provincia, oggi dalla città metropolitana, si è disputata dal forte San Carlo al forte delle Valli, per una lunghezza di 2.800 metri e un dislivello di 650. Gioia, quinta vittoria, vittoria annunciata, favorito delle... Perché per me non è sempre un po' un enigma, vinco sempre quando arrivo al traguardo, ho sempre quell'ansia di non arrivare, perché capita delle volte che magari sì, sono favorito, ma di perdere, come domenica scorsa. Il tempo è fantastico, non è il record però? No, il tempo non è fantastico, ho fatto di meglio, un minuto in meno, abbondante, 19.58, sono appena sotto i 20, però quest'anno ho fatto 20.58, ho peggiorato di un minuto il mio tempo, ma comunque diciamo che sono riuscito a vincere, quindi questa è la soddisfazione della giornata, ecco. E' la prima volta che corro sulle scale, ci ha detto l'atleta svizzero André-Pierre Ramus, ho molto apprezzato, penso di tornare qui a Fenestrello, ho 41 anni e corro da 35. Penso di tornare e porterò con me degli amici, perché la corsa è simpatica e straordinaria, e agli European Master Games correrò anche i 3.000 metri in pista. Francesco Rabino, la società sportiva, Turin Marathon. Allora, vincitore della categoria over 80, ma lei di maratone è un esperto? 120, 120 maratone, 3 volte il giro del Monviso, Shaberton, le 3 funivie, la Stellina, Susa Stellina e Sossè. Quindi la 4.000 scalini per lei è uno scherzo, un gioco? Allora, non posso nascondere l'emozione, ma comunque la soddisfazione come città metropolitana di un evento internazionale riuscito e soprattutto la 4.000 scalini è un evento annuale che rientra all'interno di questo circuito, di questo evento più grosso, che sono gli European Master Games. E oltre a ringraziare gli uffici e i volontari che permettono questo tipo di eventi, soprattutto in questi momenti di ristrettezza per la pubblica amministrazione, vorrei ringraziare anche l'Associazione Radiomatori Italiani che con il loro aiuto hanno permesso di far conoscere questo evento metropolitano in più di 70 paesi, grazie alle loro radio e collegando più di 2.000 operatori in tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.